Abbiamo il piacere di intervistare con noi il dottore Cimo, un ex dirigente generale dell'agricoltura. A lui chiediamo dall'alto della sua esperienza come e in che maniera con megni come quello di oggi possono avere degli input per una riqualificazione dell'intero mondo e dell'intero comparto agricolo. Allora intanto lo scopo di queste riunioni, di questi incontri specialmente col territorio e anche con la politica ovviamente servono a far crescere anche la cultura della nuova programmazione, degli strumenti che ci sono per poter investire e anche pensare a come innovare in agricoltura. Il tema del convegno e dell'incontro e la tavola rotonda parla chiaro che è dove va l'agricoltura. Quindi si tratta di capire alla luce anche dei nuovi orientamenti comunitari per il nuovo periodo 23-27 e anche del PNRR, questa grossissima quantità di risorse che arrivano in Italia, come intervenire e cosa è meglio fare per l'agricoltura in Sicilia. Va bene, grazie dottore Cimo, attendiamo il suo intervento all'interno dell'Assemblea. A dopo. Grazie ancora. Grazie ancora. Grazie a tutti.